Allora ci chiediamo, dire prima agli italiani è razzismo, saluto Chetty Caraffa, ex GGL tanto tempo fa, Chetty Caraffa che mi ha fatto venire in mente il tema della puntata, perché io la seguo su Facebook e ha scritto una roba che insomma, poi vi faccio vedere, saluto Renato si è modernizzato? Ma da un po', è capace di usare un iPad? Certamente, prosegua sta facendo i giochini, sta facendo i giochini, devo vedere, guardi le notizie di oggi dell'Ansa sui migranti, ah grande si tiene informato, allora saluto Renato Pomari della FIOM CGL, io tutto avrei detto tranne che di trovarla con un iPad in mano, però, certamente bisogna e Mudu Gheie dell'associazione Sunu Galla, buonasera Mudu, bentornato, saluto da Roma Simone Carabella, mental coach, cosa significa mental coach? Buonasera Carabella, cosa significa anzitutto mental coach? Buonasera, buonasera a tutti, mental coach è quel lavoro che aiuta le persone a dare il 100% in ogni circostanza, quindi attingere al proprio massimo potenziale. Ecco, però io che seguo Facebook ho seguito anche Simone Carabella, allora prendendo la sua pagina Facebook abbiamo realizzato un montaggio di alcuni video che ha pubblicato da Simone che hanno avuto migliaia di visualizzazioni, giusto per spiegarvi meglio come la pensa anche Simone perché lui dice prima gli italiani e lo dice senza equivoci, vediamo il montaggio e poi ne parliamo. Con la scusa dei finti aiuti stanno trasferendo l'Africa in Italia. Ho visto uno Stato che invece tutelava immigrati clandestini. Mi sono avvicinato e sul cruscotto non c'è il tagliandino per disabili. Non è assolutamente giusto, per pagare le prostitute agli immigrati clandestini sì. Con gentilezza prendendolo per un orecchio lo ha accompagnato in auto e lo ha invitato ad andarsene. Una parola sola conta, la nostra Italia. Se n'è andato. Gli alloggi comunali ci sono e che purtroppo sono troppo spesso occupati da chi non ne ha diritto. Salviamo l'Italia. Dal politico che guadagna 15.000 euro al mese e paga 150 euro al mese per una casa davanti al Colosseo è il momento di alzare il culo dalla sedia all'occupante che magari ha altre tre case che affitta salviamo il futuro dei nostri figli all'immigrato che arriva e si trova senza motivo un tetto sopra la testa. E che centinaia di immigrati clandestini vengano accolti nel nostro paese in residence completamente ristrutturati. Quindi affondare le loro navi, naturalmente vuote, aiutiamo prima i cittadini italiani e poi tutti gli altri. Allora Simone, mi sembra chiaro il tuo pensiero. Hai modo di ritenere, e forse un po' anch'io visto che ho messo nel secondo dei dieci pacchi della settimana proprio il ministro Alfano, hai modo di ritenere invece che gli italiani siano discriminati? Nella maniera più assoluta, sono i fatti a dirlo. Ma è un abitabile che percepisce... Pomari della FIOM può aspettare e lasciare completare un ragionamento all'ospite di Roma al quale ho fatto una domanda? Prego, prego, prego Simone. Scusate, arriva l'audio un po' in ritardo ed è anche basso, quindi non riesco. Comunque... Vai, vai. Un disabile che percepisce una pensione di 288 euro al mese o un anziano che con le sue mani ha costruito la nostra Italia che percepisce 500 euro al mese è discriminato rispetto a chi viene da fuori abusivamente Scusa, è discriminato rispetto ai politici e non da quelli che viene da fuori. Scusa, prego Pomari, prego, guardando la telecamera... Per favore mi lasci finire un discorso, altrimenti arriva in ritardo l'audio e... Ok. Se dobbiamo ospitare tutto il mondo in Italia e non parlo dei rifugiati politici e da chi scappa dalle guerre perché quelli li ospiterei a casa mia. Ma chi scappa dalla loro terra, dalle loro terre, soltanto per motivi economici e vengono ad usurpare i diritti degli italiani Fermo lì, fermo lì, fermo lì, fermo lì, non posso accettarlo. Chiaro, budu gueie. No, mi fa ridere veramente... No, no, però scusa, perché ti fa ridere? No, non ridere, guarda, non ridere, non ridere. No, allora, vi ho ascoltato prima, non ho detto A. Mi fa ridere semplicemente perché qua si tratta di campagna elettorale e di ignoranza, perché mi va a dire questo con l'altro che occupa... No, 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 mi fa finire. Allora, quanti italiani sono fuori che lavorano perché semplicemente hanno bisogno di lavorare... E quanti italiani oggi hanno lasciato l'Italia che sono in Inghilterra, sono in Senegal, sono in Africa, sono in Cina, sono a X... Ancora? Noi ne parliamo di questo. Noi andiamo anche... Allora, a me dispiace, quando la politica prende per il culo i cittadini... Ma tu cosa fai per dire? E' lei che prende per il culo gli italiani che va a dire questo con l'altro per sfruttare i migrati. No, mi fa vergognare questa sua parola. Allora, impegnatevi per l'Italia, per sfruttare gli italiani, punto e basta. Non sfruttate i migrati o i negri o gli extracomunitari, impegnatevi politicamente per risolvere il problema dell'Italia. Ma politicamente, adesso, la sinistra, il centro e il mezzo, abbiamo le palle piene di queste parole. Risolviamo il problema di questo Paese, di questa Europa. Basta con questa strumentalizzazione politica, si tratta di ciò. Diciamola, abbiate il coraggio, voi Renzi e l'Europa, Berlusconi, chi siete? Punto. Volevo solo dire una cosa. Vito un attimo. Prego, Simone. Ma quale politica, ma quale campagna elettorale? Questi sono dati di fatto. Un immigrato viene ospitato in un albergo con vitto e alloggio e un disabile non può prendere un mezzo pubblico. Ma cosa stiamo parlando di emergenza? Perché le nostre città sono piene di barriere architettoniche. Mi lasciate parlare per cortesia. Un disabile che è stato sfrattato, che stavano sfrattando, semplicemente perché c'è un problema con la Regione, col Comune, col Ministero. Questo è un problema politico che va risolto. Noi andiamo a parlare di quelli che sono di passaggio, perché quelli passano in Italia per qualche giorno e andiamo a sfruttare questo. Dimostri chi sei veramente. Mi vuoi raccontare uno di questi immigrati che è rimasto in queste residenze per cinque giorni? Mi lasci parlare. Per cinque giorni. Non esiste, non è vero. Sono fandonne queste. Noi andiamo a dire o no. Basta con queste. Ma dove abiti? Ma no, ma no, dai. Diciamo la verità. Diciamo le cose come sono. Risolviamo il problema perché c'è un problema di strutture, di infrastrutture qui. L'Europa non sta cagando l'Italia perché l'Italia non è capace di fare progetti per sistemare i posti. La Regione che complica la vita al Comune. E il Governo che complica la vita a quella o a quell'altro. Che la politica sia in grado di mettersi insieme per dire risolviamo il problema. Qualcuna delle mie telespettatrici sarebbe tentata di dire se non ti sta bene perché non tu... Ma io no, ma no, ma io non ne sto dicendo questo. No, perché sei qua che credo. Io sono qua, io sono qua e mi piacerebbe che la politica davvero che risolvesse il problema degli italiani. Prima di tutto come sta dicendo lei. Prima di tutto. Ma non lo sta facendo. La politica sta pensando, la cadrega come state dicendo voi. Punto e basta. Dimenticando i cittadini. Continuando a usare l'immigrato, questo, con l'altro, a destra, a sinistra. Allegra presnò per il più l'allegger. Fermi un attimo. Fermi tutti. Chetti. Sì, guarda. Guarda. Un attimo, un attimo Simone, un attimo. Nella vostra discussione per dire questo. Intanto io credo che sia proprio un problema di comunicazione. E anche di integrazione. Adesso però ti fermo. Perché è anche la tua discussione. Perché come ho seguito Simone. Su Facebook. A me non mi interessa che voi siate di destra o di sinistra. No, no. Se dite delle cose e la gente le condivide, le ascolta e tutte queste robe qua, io le riporto. Infatti. Fa un post su Facebook, mettetemelo a pieno schermo, scrive questa roba qua. Pazzesco. Appena finito di fare una pratica a uno di colore che voleva mettessi il velo sulla faccia. Sì. Mi è successo. Fermali che sto leggendo. Ok. Per parlare con lui. E inoltre non si è fidato della mia consulenza. Mi ha fatto chiamare un uomo e si è fatto stampare il resoconto della pratica da un'altra persona. misogino di merda. Retrogadro e noi donne italiane, lavoratrici e con i diritti acquisiti, dobbiamo pure stare zitte. Io non ne posso più di quelli che mi dicono di sopportare queste situazioni di soprafazione e discriminazione sulle donne da parte di musulmani del paleolitico sul posto di lavoro e ovunque. Pensava davanti una deficiente bionda da sottomettere. E il problema più grave è che non sono stata difesa da nessuno e ho dovuto reprimere la mia voglia di schiacciarlo come un verme. Questa è Ketty Caraffa, ex CGL. È stato uno sfogo assolutamente vero. Uno sfogo pubblico. Allora ne parliamo ripartendo da questo dopo la pubblicità. Fermo lì l'esponente della FIOM. A tra poco. Voglio dire qualcosa. Allora Ketty Caraffa, che è successo con questo? È successo quello che ho scritto. Raccontalo bene questo episodio. Dunque, questo io appunto stavo facendo tra l'altro una pratica di disoccupazione, quindi anche per una persona che era in difficoltà. E quindi ero lì, in questo senso proprio al servizio. Di questa persona perché gli stavo facendo quello che poi doveva ottenere dall'Inps, un sostegno al reddito. Questa persona non si fidava di me, lo si è visto da subito, non riusciva proprio a integrarsi con la mia comunicazione, che comunque è sempre uguale. Ti faceva schifo che eri donna? Da subito. E mi ha chiesto, tu dovresti essere da un'altra parte con un velo sulla faccia. Io da lì comunque ho iniziato. Tu lavori in un ufficio che fa pratiche, perché giustamente queste persone hanno dei diritti e li conoscono bene. Hanno dei diritti perché gli sono stati dati e li conoscono bene. Certo, perdono il lavoro. Viene nel tuo ufficio e si permette di dire perché sei donna, tu dovresti stare da un'altra parte col velo. Poi in più non si fidava assolutamente. Io dicevo, guarda che la data l'ho scritta giusta, tu hai finito quel giorno di lavorare. L'ho scritto giusto, no, voglio vedere la stampata. Dato, ragazzo va bene, te lo stampo, però non dire queste cose, perché comunque ti devi fidare di me, sto facendo il mio lavoro, quindi ti devi fidare assolutamente, anche se sono donna. Poi io mi sono moltissimo veramente alterata, ho fatto la pratica, l'ho chiusa, l'ho finita, tutto contento perché gli ho stampato la pagina, quindi era tutto ok. E poi la sera ho fatto questo sfogo su Facebook. Scusa, posso chiedere, non è che mi capitano in questi casi. No, non è il primo, non è il primo. Ma in proporzione. Ma sì, ma certo, non è che mi capita tutti i giorni di essere... Però questo è un caso, siccome io poi... Anche gli italiani maleducati ce ne hai dappertutto. No, ma ascolta, ma certo, ma figurati, ne trovo anche gli italiani così, però questa frase, mettiti il velo, non mi era mai successo sinceramente di averla così in un ufficio pubblico. E poi, no, ma devo solo dire questo, cioè, io sono stata abituata, tu lo sai anche, Roberto, sempre a difendere i diritti delle donne. Io sono anni veramente che ho difendere i diritti delle donne. E quindi una cosa che mi imprema veramente tanto è questa, cioè far capire ai nostri diritti o comunque a chi cerca di percepirli e di lavorarli, che non possiamo perdere, cioè dobbiamo difenderli. E quindi sono assolutamente d'accordo sull'accoglienza e il video che ho visto prima del signore che è in collegamento, sicuramente è far west, quindi comunque mi sembra veramente una cosa da Sergio Leone, forse sicuramente non è anche d'accordo per la musica che ci ha messo sotto. La musica l'abbiamo messa noi, è un nostro montaggio. Però sei un po' texter. Io guarda, questo signore non lo conosco, l'ho conosciuto su Facebook, ho il vantaggio come lui di girare nelle periferie, io a pagamento perché mi ci manda Mediaset con tutte le trasmissioni del Debbio, e di sentire che il sentimento nelle periferie è proprio quello che rappresenta lui in quel video. Roberto, si sta montando una campagna poveri contro poveri, e questo è il problema. Quel signore aizza questo sentimento in campagna poveri contro poveri. Quando dice che i ricchi portano via le case ai poveri, è vero, ma non può mettere sullo stesso piano gli immigrati sfruttati che vengono qua per lavorare con i nostri politici che ci rubano le case. Lui fa la campagna poveri contro poveri e porta questo, delle periferie che sono contro i migrati. E stiamo cadendo in quella trappola, anche per quelle campagne di quel signore. Vi ricordo che 500 migranti sono morti in mare questi giorni, perché non c'è più l'operazione in mare Nostrum, e mentre prima si sapeva, adesso non si sa neanche se muoiono o dove muoiono. Questo è il disastro. E certe campagne, così, portano questa situazione, Roberto. Scusa, secondo te, ti faccio una domanda chiara, Pomari della FIOMCGL. Sì. Secondo te questo signore è razzista? Ma certamente, certamente, nei modi fanno propaganda razzista. Scusa, scusa, questo signore ha detto, se io non ho capito male, io farei venire prima, perché pretendo che vengano prima quelli che si sono fatti un culo così per costruire questo paese e poi se c'è spazio, e poi se c'è spazio gli altri. È razzista? È razzista, perché, come diceva Einstein, non esiste una razza italiana, una razza francese, una razza europea, ma siamo tutti alla stessa umanità. Gli immigrati si sono fatti, hanno fatto i grandi sacrifici nel loro paese, solo che sono in una situazione catastrofica, anche per problemi economici, e vengono da noi, come noi siamo andati in altri paesi, in altre epoche. No, 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 allora, su questo... Prima, un attimo, prima Carabella, dai, Mudu, hai sempre rispettato le regole, non ti scaldare. Prima Carabella. No, no, Mudu, è proprio, i ragazzi come Mudu utilizzano la parola razzismo come alibi per non rispettare le regole nel nostro paese. Mi fai parlare per cortesia? Sei un grande maleducato. Sei un grande maleducato. Io non ho mai detto... Perché non ci facciamo un giro negli ospedali d'Italia? No, per me gli italiani sono tutti non rattisti. Perché non prendiamo i mezzi pubblici in Italia? Lei, una di intelligenti furbi che usa gli italiani con queste parole per fare i suoi affari, perché tra un po' le vedremo in qualche partito, in Parlamento, da qualche parte. Vergognati, 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 non mi fate dire ciò che non ho detto e non lo voglio dire. Vergognati, vergognati, fai silenzio, questo puoi fare. Se lo posso dire. Se stai zitto stasera fai più bella figura. Ma no, ma no, ma no, ma no, si è un po' educato. Sei mai stato in un ospedale? Si è un po' educato. Fermo lì, fai un mezzo pubblico. Eh no, dai. Cioè, mi dice, fai sei zitto, schisane. Non mi fanno parlare. Non mi fanno parlare. No, no, no. Allora te lo dico io. A me verrebbe da dire ma ci ho paierato. Vudu, te lo dico io, scusa Vudu, te lo dico io, stai zitto per favore, aggiungo per favore, perché io avevo dato, io non so nel Senegal come funzionano i dibattiti, probabilmente se c'è lavoro andrò anche lì come tanti italiani, ma non mi sembra una meta felice. Però qui funziona, per fare dibattiti televisivi, anche perché non capirebbero un cazzo, chiuso discorso, dalla mia parola, no, perché parlo italiano. Allora, io ho dato la parola a Simone, vorrei ascoltarlo e dopo vorrei che tu intervenissi. Prego Simone che parto. La realtà è che in Italia un razzismo c'è, ma è nei confronti degli italiani onesti che non possono accedere ai servizi per i quali pagano le tasse. Ma sono i nostri politici che ci rubano così, ci rubano. Pomari, fermo. Passano prima gli immigrati e per secondi gli italiani onesti. Perché per gli asini mido, nelle liste d'attesa, ci sono prima gli immigrati e poi gli italiani onesti. Non è assolutamente vera questa cosa. Lo stesso per le menze. Ma stai prendendo tutte cose di pancia, sono tutte cose che hai letto, pensare a quale parte, sono stereotipi quelli che dici. Io vivo in città e conosco moltissima gente e questa è la realtà. Ma guarda che anch'io sono critica, però in maniera un pochino più ponderata, perché capisco cosa vuol dire. Che è tutt'altro rispetto alla realtà che vivono i cittadini onesti. Ma dai, non dire queste cose, perché comunque i numeri parlano, siamo ad un livello molto basso di discussione così. Perché per un'ecografia in Italia ci sono liste d'attesa di mesi, se sei immigrato la fai subito. Sì, ma cosa c'entra? Perché se sei immigrato e paghi e prendi un mezzo pubblico e non paghi il biglietto, non vieni multato. Ma cosa vuol dire? Un immigrato fa un'ecografia prima di un italiano. Portami un esempio, portami un esempio, non vieni cacciato. Ma dimmi dove, in quale ospedale gli immigrati hanno una precedenza. Quanti ne volete? Ma dimmi fatti concreti, io ho portato un fatto greco. Ovunque, ovunque. Adesso chiedo la parola a Roberto se è possibile. Adesso te la do. No, perché, allora, diciamo che quando parliamo di strumentalizzazione, di ciò si tratta. Perché io che viaggio, che prendo i mezzi. Ma quale strumentalizzazione? No, no, no. Io che viaggio che prendo i mezzi, mi rendo conto di quello che sta dicendo. Che la multa, e lo fanno tutti, perché i signori che fanno le multe, veramente sono gente per bene che fanno il loro lavoro. No, no. Poi un giorno magari, no, no, vabbè, mi fa terminare. Perché, visto che siamo in un paese civile, lei è civile. Ma dai, stai inventando un mondo... Davvero, di dire perché è prima immigrati e bla bla. Tutte queste sono cose... Ma dove vivete? Perché lei sicuramente è candidata da qualche parte e sta cercando i voti per qualche partito che non ci vuole dire adesso. E questo ci fa ridere. Io che vi parlo, vi giuro che non ho bandiera. Non ho nessun partito e non ho la cittadinanza italiana apposta perché non voglio essere chiamato da partiti simili a quelli che li stava per prendere. Perché di questo si tratta. Ma avrai qualche idea. Lavoriamo veramente per un mondo migliore e alla fine voglio dire che oggi se ci lamentiamo dall'Italia e dell'Europa... Tu lavori per un mondo migliore. L'Europa sta succhiando sangue alla Nigeria, all'Africa. La vita è un'altra cosa. E sta incontrando continuamente. Se togliamo, se togliamo, se fermiamo veramente i gas o il petrolio o l'energia che arriva da fuori e che ti sta alimentando lì dove sta, vedrai che non è così. A me piacerebbe veramente che si parlasse di un mondo eco, sostenibile. Perché non fa piacere nessuno lasciare il proprio paese. Guarda che l'immigrato che viene rispetto alle regole è mio amico. Come tanti italiani che stanno lasciando l'Italia oggi grazie alla crisi. L'immigrato che viene rispetto alle regole è mio amico, uno per volta. Ma fate qualcosa per l'Italia, dai, per cortesia. Smettiamo di usare i migrati solo per non pensare ai problemi che hanno gli italiani. Gli italiani hanno i problemi seri. Non è quella roba lì che sta dicendo. Il problema di lavoro è per tutti e disoccupazione ce l'hanno tutti. Questo è il problema che voi non volete affrontare, punto e basta. Affrontiamolo per una volta. Basta la strumentalizzazione. L'imigrato del lavoro degli immigrati lo vediamo in Italia che poi abbassa anche il costo del lavoro di tutti quanti. Quindi effettivamente poi lo sfruttamento è di tutti, non soltanto di una piccola parte. Quindi da questo punto di vista tutti sono nella stessa barca. Per quanto riguarda anche il costo del lavoro. Quindi gli immigrati vengono qui e danno un euro all'ora. Ma succede anche agli italiani di conseguenza. Quindi non è una posizione tranquilla per tutti. Siamo tutti nella stessa barca, come si dice. Quindi questa tua posizione è veramente molto di pancia. Porta avanti un discorso molto forte. Sì, ma nella barca non c'entriamo più tutti. Perché ti fa piacere avere 100.000 like su YouTube. Però non è il problema questo. Salvini, è molto meglio di quel signore l'ha appellato a Roma. Ma non mi interessa lei l'ha. Ma molto, ma c'è veramente. Ma io vivo la vita quotidianamente. E mi rendo conto delle difficoltà che affrontiamo tutti i giorni. Mille volte Salvini che lei ti giuro. Però scusate, io mi faccio una domanda. Ma il mondo vero è un'altra cosa. Se lo lasci dire. Io mi faccio una domanda e la faccio all'esponente della FIOMA CGL. Le chiedo, secondo lei una persona come questa, che io ho voluto portare in televisione perché, ripeto, dice le cose che mi dicono tutte le persone in giro per l'Italia, non dovrebbe stare in televisione? Ma dovrebbe stare in televisione, ma se avesse, come dire, termini un po' più moderati e portasse dei dati, perché quando dici che gli immigrati vengono trattati meglio negli ospedali, deve dire dove. Io ho assistito ad episodi opposti. Basta i dati. Cioè nel senso, anche sui mezzi pubblici, quando salgono i controllori, proprio perché per una, forse una prevenzione, vanno a controllare i biglietti degli immigrati e non quelli degli italiani. Allora... Ma dove? No, è così. Ma cosa stai dicendo? Allora, c'è una prevenzione in questo. Ma dove? Perché... Ma questa è la dice nel paese delle meraviglie. Perché sta montando da tempo una campagna denigratoria. Va bene. Alcuni episodi sono veri. Per fortuna non lo decide la FIOMCGL chi deve stare in televisione dalla mattina alla sera, se no non avremo Renzi giorno, notte e pomeriggio. Giusto? Non ho capito... Guardi, le battute belle le arrivano tardi. No, no, mi arrivano sempre subito. Ho detto per fortuna, non lo decide la FIOMCGL chi deve stare in televisione, se no non avremo Renzi a tutte le ore in onda. Certo, certo. È giusta, no? Sì, sì, sì. Questa era buona. Non era una presa per il culo, era una battuta buona. Beh, ma la FIOMCGL decide molto meno di quanto si pensi. Lo sapevo, lo sapevo. Purtroppo, perché noi, anzi, volevo ricordare che oggi si è stato lo sciopero per il contratto e quindi riguarda gli italiani ed immigrati che sono metalmeccanici e che sono ugualmente discriminati. E noi in piazza ci portiamo gli italiani e gli immigrati. Abbiamo delegati italiani ed immigrati. Ultima battuta, Simone Carabella, se ti fa piacere, se le fa piacere la invito ancora alle mie trasmissioni. Prego, ultima battuta. Vedevo che scuoteva la testa. Guardi, è un piacere, è un piacere. Io penso che troppo spesso in televisione si parli in politichese, la gente comune ha bisogno d'altro. Grazie a Simone Carabella, grazie a Ketty. Non dei dati scritti sui taccuini. A Ketty, Carafex, CGL, ma un sacco di... Altre cose, puoi dire altre cose. Grazie a Renato Pomari. Buonasera, grazie a lei. Della FIOMCGL che da quando si è fatto l'iPad... Ma da tempo, guardi, da tempo, quindi... Magari verrà anche con la giacca la prossima volta. E vabbè, la giacca non gli sta bene. L'iPad sì, perché comunque si informa. E grazie a Mudu, gay dell'associazione Sunugal. Cos'hai che c'hai sulla punta della lingua che devi dire? No, no, a me piacerebbe veramente con il signore Carabella, Carabello, col che l'è, che si... Carabella. Carabella. Carabello è lei, Carabella è lui. Sì, col che l'è. Comunque, che parlassimo seriamente tra l'Europa e il resto del mondo. Vabbè, allora facciamo una cosa. Un conflitto serio. La re-invito anche con Carabella. Sì. A patto che siate... No, no, ma io guarda, andrei anche al bar a parlare, tranquillamente. Sì, non morde, eh. No, no, ma io non ho paura dei bianchi. Anche io. E con i bianchi non dovrebbero avere paura dei nevi, perché siamo umani. Neanche io ho paura. A posto. Allora ci vediamo al bar e ne parleremo. Ne parliamo. O magari anche in televisione, perché io voglio... Gli opposti si attraggono. Ecco, gli opposti si attraggono. E buonanotte, fermiamoci lì. Parliamo di pensioni, perché l'ennesima delle fregature è in agguato, subito dopo la pubblicità. A tra poco.